Ciao, sono Monica Lozzi, sono consigliere municipale del VII Municipio di Roma, sono venuta a conoscenza di Liberi TV attraverso Gianni, proprio nello svolgimento della mia studia istituzionale, avevamo bisogno di una persona che facesse le riprese dei consigli municipali e ci aiutasse a diffonderlo nel web e questo è ciò che facciamo con Liberi TV da qualche mese, ci permette appunto di raggiungere tanti cittadini che non hanno la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica, perché i consigli purtroppo si tengono sempre in orari difficili per chi svolge attività lavorativa, invece grazie alla professionalità di Liberi TV riusciamo a fornire questo servizio in attesa che anche il Comune si fornisca il personale che possa farlo in modo istituzionale. Devo dire che oltre ad apprezzare la loro professionalità ho imparato a conoscere il lavoro che svolge Liberi TV e io lo ritengo un lavoro molto importante, perché avere un luogo dove poter esprimere liberamente le proprie opinioni, dare un'informazione libera, soprattutto oggi che i canali ufficiali di informazione spesso non lo fanno, lo ritengo molto importante, sono diventata per questo una loro sostenitrice e mi auguro che questi tipi di progetti possano implementarsi in maniera sempre più ampia, soprattutto attraverso il web perché è più facile raggiungere molte persone. Io vi ringrazio, ringrazio la loro professionalità e mi auguro di collaborare anche in futuro con loro. Grazie a tutti.